Buonasera a tutti i presenti e a chi ci segue da casa. L'appuntamento sta nella rassegna del piccolo festival della divulgazione, un festival organizzato in particolare dall'assessore Matteo Zucchini del Comune di San Giorgio di Piano che è qui presente, insieme ad altri ospiti che sono Ruggero Rollini della comunicazione delle scienze, Lucia Cuffaro, mi perdonerà ma io con gli accenti sono un disastro, influencer ecologista e Antonio Beraldi di Leila Bologna alla biblioteca degli oggetti. Dovrebbe essere presente anche Davide Gagliotti ma credo che sarà assente perché ahimè è stata vittima di quel virus diffuso che ci ha colpiti in questi ultimi due anni e quindi ahimè non riuscirà ad essere presente. È un peccato perché avrebbe portato davvero la propria esperienza riguardo a un consorzio di cooperative o esperienze cooperative di tipo B riguardo appunto a progetti già costruiti ma che saranno anche oggetto di un progetto che riguarderà il vaccino Geovest che Geovest ricordo per chi non lo sa è l'ente gestore per la raccolta dei rifiuti di alcuni comuni del territorio e quindi sarebbe stato molto interessante eh conoscere eh appunto questi progetti che sono ancora da costruire ma che eh sono molto interessanti e eh sono interessanti anche per il comune di Castelmaggiore perché eh abbiamo proprio chiesto a eh questo consorzio di presentarci un progetto per eh un eh riuso e un riciclo di oggetti e di eh eh altre altre cose prima che diventino eh rifiuti. Il tema è ehm è inserito appunto in in questo piccolo festival della divulgazione poi piccolo per modo di dire perché eh presenterà poi eh l'assessore Zucchini eh questa interessante iniziativa ma oggi la puntata di oggi eh coniuga eh forse in maniera anche eh importante eh divulgazione e eh un tema che eh è sicuramente un tema pratico operativo come quello del riuso del riciclo delle cose ma che eh nasconde e ha insito in sé comunque un percorso di divulgazione ma anche di approccio culturale delle persone. Quindi eh lega queste due cose che sono eh indispensabili se vogliamo ehm far sì che eh azioni collettive poi eh siano effettivamente eh concrete e e realizzabili. Senza questo doppio passo, questa doppia comunicazione diventa poi difficile anche far passare eh qualsiasi cambiamento e approccio culturale eh di noi tutti ma è compreso proprio perché il riuso non è solo un recupero di un oggetto ma è davvero un eh un diverso modo di pensare, un diverso modo di approcciarci nei confronti delle cose e non solo dell'ambiente, proprio un diverso passo. Eh su questa cosa tra l'altro appunto come ho già detto anche all'inizio il comune di Gastemaggiore eh intende anche investire eh non solo risorse ma anche tempo eh proprio perché ritiene eh che sia indispensabile per avere un diverso passo nell'approccio eh nei confronti eh dell'ambiente e di tutto ciò che ci circonda. Io passerei eh se non ricordo male la parola eh assolutamente l'assessore Zucchini per la presentazione di eh di questo festival della divulgazione che è molto interessante e che eh vi descriverà con molto più particolarità eh quello di quello rispetto a quello che posso fare io. Prego assessore. Grazie mille, grazie mille innanzitutto al comune di Castemaggiore per avere aderito con noi all'organizzazione di questo festival che appunto parte da San Giorgio ma in realtà ha coinvolto non solo comune di Castemaggiore ma Margelato, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, e Bentivoglio quindi è diventato diciamo una realtà della nostra unione di comuni e quindi insomma sono contento che l'idea sia piaciuta e quindi sia stata sostenuta anche da appunto da altri enti. È un festival che nasce dalla dall'idea di mettere un po' a sistema una serie di esperienze fatte negli anni scorsi eh come assessori alla cultura facciamo sempre iniziative, presentazione di libri, documentari e quindi si cerca di fare cultura con i pochi mezzi che siamo a disposizione ma anche cultura scientifica e questo è stato un po' diciamo forse il cambio di passo, la consapevolezza che c'è un particolare modo di fare cultura non solo scientifica che è quello della divulgazione che in questi anni insomma sta avendo un bel seguito, un bel seguito sui social, su internet ma anche dal vivo con conferenze molto molto partecipate e quindi avendo appunto ospitato alcune esperienze di questo tipo negli anni scorsi abbiamo deciso di provare a inventarci questo festival insieme ad alcuni amici e concittadini che ci hanno aiutato, tra i quali anche Pierdomenico Memeo e suo stesso divulgatore astrofisico che oltre a tenere una conferenza appunto ci ha aiutato dal punto di vista diciamo della direzione scientifica a costruire un bel cartellone di eventi al quale appunto poi sono intervenuti poi anche altri comuni e quindi qui oggi stiamo con Ruggero Lollini che ringrazio per avere partecipato e tenuto insieme ad altri e battesimo questa prima edizione. Abbiamo chiamato Piccolo un po' per modestia, un po' perché veramente pensavamo di partire facendo una cosa piccola in realtà appunto oltre a Ruggero abbiamo avuto Guido Barbuiani un genetista veramente bravo anche dal punto di vista comunicativo, chiuderemo con Roberto Mercadini che è comunque anche lui un divulgatore molto molto seguito che ci farà questa spettacolo conferenza su Little Boy, uno dei suoi ultimi libri, il penultimo libro anzi il terzo ultimo libro che ha scritto dedicato alla storia della bomba tomica ma poi avremo Besricio Mautino, altra bravissima divulgatrice sabato sera, avremo Simona Vinci, scrittrice ma che verrà a farci una conferenza su Shirley Jackson quindi sulla letteratura gotica, abbiamo avuto appunto Francesco Filippi, uno storico, quindi divulgazione a 360 gradi con l'idea appunto di far parlare a persone competenti non solo nella loro materia ma anche nella capacità appunto di arrivare alle persone, questo era un po' il nostro scopo senza alcuna pretesa ovviamente di sedersi in cattedra quindi divulgazione come anche un processo di scambio e di condivisione delle informazioni e niente quindi continuiamo, siamo più o meno a metà, anzi abbiamo scavallato la metà del festival siamo molto contenti appunto sabato sera, venerdì sera a San Giorgio di Piano con Simona Vinci ma sabato sera con Mattrice Mautino a San Pietro in Casale alla Biblioteca Luzzi e poi in piazza San Giorgio, quindi invito tutti i presenti e gli ascoltatori o spettatori non so come si dovrebbe dire in questo caso, anzi sono un po' imbarazzato per questa diretta e quindi dicevo che vi invito a San Giorgio di Piano alle 9 di sera in piazza avremo appunto Roberto Mercadini e chiuderemo questo festival che appunto non è stato piccolo e che speriamo sia non una edizione unica ma che sia l'inizio di un cammino che insomma ci porterà, ci siamo dati questo obiettivo, quando ospiteremo Alessandro Barbero saremo arrivati e chiuderemo in bellezza senza nulla togliere ovviamente agli ospiti presenti e partecipanti al festival ma devo dire che in tutti ho trovato un grandissimo rispetto per questo futuro ospite speriamo, quindi grazie mille al comune di Castelmaggiore e niente poi auguro a tutti una buona visione di questa iniziativa. Bene grazie molte, Alessandro Barbero però incuriosisce molto senza togliere per carità ha una capacità di presa nelle persone che è veramente incredibile, davvero è anche spesso divertente. Faccio un saluto assolutamente da parte della sindaca Belinda Gottardi che arriverà e quindi senz'altro farà il suo intervento successivamente ma è questione di qualche minuto. Ruggero Rollini qualche parola sul perché mi incuriosisce molto questa cosa perché ho pensato ma non la faccio lunga ho sempre pensato a come, a quali sono gli strumenti e i metodi per arrivare sempre di più alle persone in fondo oggi abbiamo una pluralità di strumenti, forse non li sappiamo usare o forse li usiamo male o forse ne abbiamo troppi e non riusciamo a individuare qual è quello più efficace e quindi è interessante anche personalmente ascoltarvi. Ma effettivamente sì nel senso c'è una pluralità di mezzi che possiamo adoperare per informare e per informarci non è semplice, no? Se è cognato questo termine negli scorsi due anni che ha accompagnato la pandemia linfodemia, no? Che ormai è entrato nel nostro vocabolario in maniera abbastanza comune che è più che altro questa sovrabbondanza di informazioni in cui fatichiamo a districarci, no? E in questo la figura del comunicatore della scienza, del divulgatore non è più, non può più essere semplicemente un altro outlet di informazioni, no? Non possiamo essere semplicemente l'ennesima cassa che spara tutto volume informazioni per quanto corrette. Non si può più, c'è veramente una sovrabbondanza, sarebbe una voce che si perde in mezzo allettante. Quello che ho notato perlomeno nel mio piccolo funzionare sui social, ma anche quando capita di andare dal vivo, è non essere più semplicemente un ripetitore ma essere, uso questa metafora spesso, un amico con la bussola. Cioè siamo in questa foresta di informazioni, io ho semplicemente una bussola, ma il viaggio da fare lo condividiamo insieme perché stiamo attraversando comunque un mondo complesso. Siccome qui parliamo di riuso, quindi anche di ambiente in senso generale, l'esempio che faccio sempre, sempre tornando agli scorsi due anni, per far capire quanto sia veramente necessaria una bussola per muoversi, è quello dell'inquinamento. Non so se ricordate all'inizio pandemia, che si leggevano gli articoli marzo-aprile, che dicevano, ah, la pandemia ha riportato gli animali nelle città, la pandemia ha pulito l'aria, la pandemia ha fatto bene, è calato l'inquinamento perché siamo tutti chiusi in casa. E al tempo stesso invece si leggevano degli articoli che dicevano, non è vero, la pandemia non ha fatto niente, cioè anzi, l'inquinamento ha aumentato. Mi sono chiesto cosa diamine è successo davvero, ho provato a farmi sta bussola per muoversi all'interno di queste informazioni, ho scoperto una cosa affascinantissima, aveva ragione tutti e non aveva ragione nessuno. Cioè, cos'era successo? Se noi prendiamo un inquinante specifico, atmosferico, che sono gli ossidi d'azoto, che sono questi inquinanti che si formano ogni volta che abbiamo una combustione, no? L'aria è composta per la maggior parte da azoto e ossigeno, quando c'è un forte calore generato alla combustione, questi due gas reagiscono tra di loro e formano gli ossidi d'azoto, che sono queste nuove molecole. Sono particolarmente dannose perché tra che in atmosfera hanno una vita complicata, vanno a formare altre molecole sgradevoli, già loro fanno un danno diretto sulle nostre vie aeree e si stima che in Italia ogni anno per gli ossidi d'azoto muoiono circa 10.000 persone per l'inquinamento d'ossidi d'azoto. La fonte principale di ossidi d'azoto in atmosfera sono le automobili, perché se la loro fonte ogni volta che c'è una combustione si formano, le automobili con il motore a combustione sono tante piccole fonti di ossidi d'azoto. La loro principale fonte è la combustione e hanno una brevissima vita in atmosfera, sopravvivono 24-48 ore. Bene, siamo stati tutti chiusi in casa, non si andava più al lavoro, ci si muoveva molto poco, gli ossidi d'azoto sono precipitati, soprattutto vicino alle arterie stradali, cali fino al 60%. Allora ecco gli articoli che dicevano l'inquinamento è calato, perché guardavano questo? Prendiamo un altro inquinante, che questo forse è il più famoso degli ossidi d'azoto, che sono le polveri sottili, sicuramente si è già, si sente no? Eh sì, d'inverno ci sono i servizi, ah aumenta di polveri sottili, ecco, polveri sottili, sono minuscole particelle sospese in atmosfera, questa volta non ci interessa di preciso di cosa siano composte, ci interessa che sono molto molto piccole. Più sono piccole, più penetrano a fondo nei polmoni, riescono quelle ancora più piccine a passare dai polmoni alla circolazione sanguigna e a danneggiare in diversi modi l'organismo, da un aumento dell'asma a una serie di malattie cardiovascolari, a il tumore al polmone e si stima che ogni anno in Italia per le polveri sottili muoiono circa poco o meno di 50.000 persone. Quindi anche queste non sono esattamente un toccasana. La loro vita in atmosfera è un po' più complessa e la loro fonte principale non sono più le automobili, in parte sono ancora le automobili, ma poi ricordate quando hanno introdotto il filtro antiparticolato, ecco lì c'è stato un grosso calo e adesso le automobili contano per una minima parte nelle polveri sottili. La principale fonte di polveri sottili è il riscaldamento, il riscaldamento domestico, soprattutto vecchi caminetti, vecchie stufalegna senza filtri particolari, tutto quello che va, tutto fumo che vediamo è vaporacqueo e di fatto polveri sottili. Cosa è successo durante la pandemia? Siamo chiusi in casa, non si va più al lavoro, quindi qualche riscaldamento magari dei luoghi di lavoro, delle scuole era chiuso, però siamo stati più a casa, quindi magari tenevamo più acceso il riscaldamento di casa. E poi c'è da aggiungere un'altra cosa, che abbiamo avuto 2020, un marzo, un aprile più caldi del solito, quindi magari anche quello hanno contribuito, magari abbiamo spento prima il riscaldamento. Di fatto cosa abbiamo verificato? Le polveri sottili sono calate poco, c'è un 10% di calo, è stato difficile, ci è voluto tanto tempo per misurarlo questo calo. E poi, e qui arrivano gli articoli che dicono l'inquinamento non è calato, fine marzo vediamo un picco di polveri sottili, noi tutti chiusi in casa, pazzesco, superato più del doppio il limite massimo giornaliero consentito. Escono gli articoli, ecco le automobili non inquinano perché siamo tutti chiusi in casa, non ci muoviamo in auto, eppure le polveri sottili schizzano alle stelle. Ci sono delle immagini satellitari bellissime che fan vedere come questo picco di polveri sottili era sabbia che arrivava dal Mar Caspio, portata dal vento, si è incuneata tra alpi e appennini, picco di polveri sottili dovuto alla sabbia, però intanto erano già usciti gli articoli che dicono ecco il lockdown non fa di niente, anzi le automobili non inquinano perché eccetera. Ultimo, poi smetto promesso, ma per far capire quanto sia una foresta difficile e perché io credo che il mio mestiere, un po' tirando acqua al mio mulino sia importante, i gas serra che sono forse l'inquinante più importante dei nostri decenni, loro non fanno danno direttamente sull'uomo, cioè l'anidride carbonica la respiriamo tranquillamente senza che ci faccia male direttamente, il problema è che si accumula in atmosfera, trattiene sempre più calore sul nostro pianeta, riscaldamento del pianeta, quindi aumento delle temperature medie del nostro pianeta, cambiamento climatico, crisi climatica e tutto quello che ne consegue incendi che abbiamo visto, nubi fragili che abbiamo visto che diventano sempre più forti e sempre più intensi, non è che non ci siano mai stati prima, diventano più forti e più intensi, ci saranno sempre più forti e sempre più intensi, quindi i danni sono secondari. In questo caso la principale fonte del gas serra non è più il riscaldamento domestico, non sono più le automobili e la produzione di energia, perché la produciamo principalmente bruciando combustibili fossili, negli ultimi mesi ce ne siamo resi conto di quanto siamo legati ancora ai combustibili fossili. Quindi, cos'è successo? Due cose che sembrano controintuitive, sembrano opposte, bloccate tante attività produttive, minore richiesta energetica, calo delle emissioni, abbiamo emesso meno gas serra in atmosfera, si stima 6-7% in meno rispetto al quinquennio precedente, alla media del quinquennio precedente, che è un bel calo, una bella riduzione significativa. Però, i gas serra in atmosfera hanno vita lunghissima, non sono come gli ossidi d'azoto che dopo 24 ore scompaiono, l'anidride carbonica può rimanere per decenni, se non secoli, quindi anche se sono diminuite le emissioni, hanno continuato comunque ad accumularsi, è come se noi avessimo una vasca, la vasca da bagno, stiamo riempiendo la vasca da bagno col tappo chiuso e abbiamo solo chiuso un po' il rubinetto, ma l'acqua continua a scorrere, stiamo comunque emettendo e quindi l'acqua continua a aumentare, il livello di gas serra in atmosfera continua a aumentare, quindi calo delle emissioni, ma livello medio in atmosfera continua a aumentare. La mia domanda è, il lockdown ha fatto aumentare o diminuire l'inquinamento? Dipende dall'inquinante che peschi e dalla narrazione che vuoi portare avanti e qui credo il ruolo dei divulgatori, io lo faccio prevalentemente sui social, di condividere questa bussola, mi sono studiato questa cosa, credo di saperla raccontare, ecco, ora con queste informazioni viaggiamo insieme e proviamo a farci un quadro della situazione. Molto bene, grazie molte, grazie molto chiaro, molto diretto, ha fatto comprendere anche il perché di tanti articoli, di tante informazioni che riceviamo e che invece di orientarci ci disorientano, se non c'è un lavoro o un'informazione che poi orienta davvero sulle notizie che ci arrivano. Spesso siamo un po' bersagliati da informazioni che ci arrivano e rimaniamo spesso appunto il punto di domanda sopra la testa perché non è quella giusta, probabilmente non ha una sua fonte di verità ma sta appunto a chi anche fa questo di mestiere, saper orientare, collocare quella informazione in un contesto giusto. E' importante anche, quindi oggi va di moda la parola influencer, c'è in ogni campo ormai, in ogni campo abbiamo questa figura che però rappresenta in realtà una figura importante perché proprio ci aiuta a orientarci e anche senza dover dare un tono negativo alla parola a influenzare anche le persone ma in senso buono, quindi a far sì che le persone possano scegliere o siano indotte a scegliere anche perché no, quando il fine, l'obiettivo è positivo anche le parole che vengono usate magari in un'accezione non sempre positiva assumono un esito favorevole e quindi è importante anche il ruolo di queste figure. Lucia Cuffaro, chiedo già perdono adesso per la pronuncia ma insomma in ogni rappresentazione che faccio almeno un cognome non riesco ad azzecarlo. E' perfetto, è perfetto. Ottimo, sono contento di questo, è già un risultato buono della serata, è probabile, cercherò di non usarlo in maniera corretta. Lucia Cuffaro, quali sono le modalità, come avviene il tuo lavoro in termini proprio di orientamento nei confronti delle persone, qual è anche un po' il risultato che si ottiene? Sono molto incuriosito dal sapere anche quali sono gli effetti e i risultati del vostro lavoro soprattutto in un tema come quello dell'ambiente che è in alcuni ambiti, in alcuni soggetti particolarmente duro e particolarmente restio a meccanismi di cambiamento. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per l'invito, sono molto legata al comune di Castelmaggiore, sono stata spesso da voi quindi insomma è sempre un territorio particolarmente reattivo a tematiche ecologiche di divulgazione e contenutistiche quindi insomma vi ringrazio di cuore per questo invito. Allora, il tema della divulgazione a livello di risultati, io mi sento assolutamente fortunata perché in qualche modo ciò che era il mio interesse, il mio modo di vivere, il mio stile di vita è diventato anche in parte un lavoro, un'attività, una divulgazione. Come è nato tutto questo? In realtà da una telefonata sbagliata un po' di anni fa, io faccio parte ormai dal 2008 di un'associazione che si chiama il Movimento per la Decrescita Felice ho iniziato attraverso l'autoproduzione che è in qualche modo una riflessione sul sistema economico in cui viviamo sull'iperproduzione, sullo scarto, sulla produzione di materie che fanno male all'ambiente, inquinano e fanno male anche a noi e da lì una reazione attraverso il saper fare, ovvero riappropriarsi proprio della possibilità di autoprodursi il cibo i prodotti per la cura della pelle, rimedi naturali, le bevande, i detersivi, i fertilizzanti, i vestiti tutto ciò che in qualche modo ci circonda, comprando attraverso delle filiere etiche. Ho iniziato tramite appunto un'associazione, è diventato un lavoro tramite una telefonata sbagliata perché a un certo punto la RAI alcuni anni fa, in particolar modo il programma Uno Mattina in Famiglia chiamò un posto dove io lavoravo, che si chiama la città dell'utopia, quindi già un posto diciamo particolare cercando il presidente di allora della decrescita felice di Roma che ero io ma in realtà sbagliò il numero, cercando però la persona giusta al numero sbagliato e quindi in qualche modo risposi io, anche se non dovevano chiamare un'altra associazione ma non si sa perché questo incrocio magico, feci un'ospitata televisiva e quindi in qualche modo ciò che era semplicemente divulgazione in parte è diventato anche il mio lavoro con la rubrica televisiva su RAI Uno Uno Mattina in Famiglia, con i libri, con il gruppo macro e tante altre opportunità. La divulgazione in realtà è stato il proseguimento di tutto questo io in realtà ho passato una vita da timida, lo so che questa cosa ormai non è più credibile come mi dicono i miei amici, però ai tempi addirittura in pubblico sbagliavo addirittura le parole, le lettere, le incrociavo, ecco adesso lo dico mi emoziono quindi adesso sbaglierò le parole sicuramente, però non avevo grande capacità proprio divulgativa e di espressione verbale, poi lo sport e il teatro ma soprattutto il fatto di divulgare dei contenuti ecologici che appunto mi rendevano felici in qualche modo mi hanno permesso di attuare appunto questa pratica quella della divulgazione ecologica. Nella pratica diamo un po' di strumenti per chi vuole intraprendere un percorso di divulgazione ecologica semplicemente cosa faccio? Sperimento, studio e se studio tanto perché bisogna studiare in realtà non ci si improvvisa e dopodiché tutto ciò che in qualche modo mi appassiona mi entusiasma, mi piace raccontarlo. Faccio l'esempio in questo momento dopo anni di studio legate alle etichette alimentari, al cibo spazzatura, a capire cosa succede nella filiera del cibo, in qualche modo mi sono appassionata al tema dell'agricoltura naturale e negli ultimi mesi delle erbe spontanee. In realtà parto da un studio, dal fatto che abbiamo perso il 50% delle proprietà e delle vitamine che ci sono all'interno di un cibo. Quindi se io prendo una mela, facendola molto semplice, e la mangio io ho il 50% o meno di vitamine rispetto al passato. Ok, però effettivamente qual è in qualche modo il prodotto che viene dalla natura che mantiene tutto l'apporto vitaminico e minerale? Sicuramente l'erba spontanea. Quindi se io mi cibo di farinello, di cicoria selvatica, di bieta, impara a riconoscere queste piante, il papavero semplatico, il rosone, addirittura la margheritina è commestibile, la calendula, i fiori di tarassaco che sono depuranti, apporto al mio organismo addirittura a costo zero tantissimi minerali e vitamine. Una volta scoperto questo, una volta scoperto che il farinello è buonissimo, che la malva la posso mangiare, ma addirittura se ho un'infiammazione del viso, la posso usare come decotto, mi viene naturale dire no, ve lo devo dire, ve lo devo far sapere, perché io esco, vado in un campo e mi posso non solo cibare e rafforzare il mio sistema immunitario, ma posso addirittura far sta bene il mio corpo. Quindi a quel punto devo divulgarlo. Come fare divulgazione ecologica? L'efficacia, la regola del tre, in permacoltura, ovvero in agricoltura naturale si dice fai una cosa che debba avere sempre tre funzioni, quindi sicuramente una funzione è quella se la scrivo la comprendo meglio, quindi io stessa la scrivo e mentre la divulgo agli altri in qualche modo mi è più chiaro nella mia testa e quindi in qualche modo diventa una memoria, una memoria che mi permette in futuro di ricordarmi quella cosa. La seconda cosa è fare in modo di divulgare divulgare senza nessun tipo di narcisismo, egocentrismo del tipo io lo so, voi non lo sapete, ma oddio che bello ho scoperto che la malva cura la tosse, cura delle infiammazioni del viso sulle mucose, mi permette appunto di creare un collegamento con le persone. La terza è in qualche modo avere un scritto, quindi quello scritto potrà far parte di un libro, potrà far parte di un articolo, potrà essere ricercato in futuro, quindi in qualche modo lancio una goccia che non si disperde nel mare ma che in qualche modo scava una piccola roccia. Per diventare un divulgatore ecologico quindi in realtà serve esperienza, serve raccontare, serve studiare. Sicuramente il teatro mi aiuta tantissimo in questo, io studio da circa 14 anni con scarsissimi risultati, oserei anche dire improvvisazione teatrale, non so se l'avete mai sperimentata voi che siete all'ascolto o seduti al tavolo, ma in qualche modo è un tipo di tecnica che permette di rendere più teatrale, di dare più importanza a quello che si dice, di in qualche modo valorizzare. Quindi in qualche modo in teatro improvvisazione si dice non sto prendendo un caffè, sto prendendo il caffè. Quindi in qualche modo quell'azione ecologica valorizzata diventa un'azione, diventa una buona pratica che può essere ripercorribile. Faccio l'esempio, il deodorante fatto in casa che è assolutamente facilissimo, reso importante diventa una pratica che ormai fanno circa 20.000 persone che io sappia in Italia, nel senso che in 14 anni più o meno tra tutti gli eventi, le conferenze e la lettura degli articoli e i feedback, credo che ormai siamo su questa cifra. Ed è una delle più antiche autoproduzioni. Per fare un deodorante fatto in casa servono due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di amido di mais e 15 gocce di tea tree oil. Basta, a 15-20 centesimi ho fatto un deodorante che mi permette di non avere poi possibili effetti collaterali del prodotto venduto in commercio con delle sostanze che tappano il sudore, che fanno male e così via. Quindi in qualche modo tutto ciò che viene fatto, viene fatto innanzitutto per spirito proprio di condivisione e di entusiasmo, ma spesso quell'entusiasmo si traduce in un feedback che arriva e che è molto più alto rispetto all'impegno divulgativo. Io in realtà lo dico spesso, mi occupo di divulgazione ecologica nella maggior parte del mio tempo, quindi nel tempo libero lavoro. Le persone con cui lavoro in qualche modo conoscono questa mia esigenza di fare divulgazione, di fare attivismo, soprattutto attivismo, quindi di mettere le mani in pasta, di essere nelle associazioni, di seguire progetti su Roma oppure italiani, legati non solo all'associazione che è il Movimento per la decrescita felice, ma tante altre realtà con cui ho il piacere di collaborare. E in qualche modo chi collabora con me sa che in qualche modo io ho bisogno di lavorare non troppo con dei cachet che non sono in qualche modo bassissimi, proprio perché ho necessità di dover fare attivismo. Questa cosa è un po' strana, ma una vita diciamo con anche la possibilità di divulgare e condividere avendo anche meno esigenza di denaro in realtà è fattibilissima perché l'ecologia comunque porta a creare meno sprechi, ma non abbassare il livello, lo standard di vita, anzi assolutamente a migliorarlo. Faccio l'esempio, mi è capitato di fare dei corsi, di studiare, di farlo in condivisione, quindi magari di scambiare una capacità legata alla comunicazione con uno scambio di saperi. Il dono fa parte di questo, quindi una persona mi aggiusta, non so, appena ripreso la macchina, mi ha aggiustato alcune cose della macchina, ho pagato una parte della macchina, una parte è stato un cestino di doni, di saponi, di autoproduzioni, di ortaggi, di vegetali, di vino, quindi insomma tutto ciò che poteva essere uno scambio, il meccanico in realtà è stato contentissimo. Questo potrebbe diventare una divulgazione, potrebbe essere qualcosa da raccontare agli altri, ma rimane anche un fatto privato, quindi nella divulgazione per avere dei buoni risultati, almeno a mio parere c'è sempre bisogno di un bilanciamento fra vita privata e contenuti. Non penso che chi debba fare divulgazione ecologica debba in qualche modo raccontare ogni cinque minuti la propria vita personale, ma come dicevo un po' nell'improvvisazione teatrale, non un caffè ma il caffè, magari qualche fatto un po' più di rilievo in qualche modo. Io non so esattamente il tempo che ho, se posso andare avanti e raccontare qualche altra cosa, ditemi voi. Ci sono ancora cinque minuti a disposizione. Perfetto, allora mi piaceva non solo raccontare la mia esperienza, un po' come avevamo parlato con Simone e con le persone del comune, quindi raccontare un po' la mia esperienza, ma anche dare dei contenuti per chi ci ascolta e vuole intraprendere appunto questa attività della divulgazione ecologica. Quali sono i canali in qualche modo da utilizzare? Allora, in questo momento il canale di cui tutti parlano, un influencer eccetera, è sicuramente Instagram. Instagram, in realtà Instagram permette un certo tipo di comunicazione molto veloce, molto briosa, molto musicale, molto creativa, che però prevede tantissima tempistica di creatività e di organizzazione e spesso c'è più tempo nella creatività piuttosto che nel contenuto, perché il contenuto deve essere molto veloce. Quindi in realtà Facebook rimane comunque un buon canale, perché ci permette di poter linkare articoli, contenuti, foto, link d'approfondimento, link per rimanere collegati alle persone. Quindi Facebook in qualche modo rispetto ai contenuti ecologici rimane quello un pochino più di qualità. In realtà però, almeno per me, la cosa migliore è il contatto diretto con le persone. Quindi io sono circa 14 anni che, oltre ad avere il blog che autoproduciamo.it, ho creato anche una newsletter collegata appunto al blog, per cui le persone, attualmente ci sono 17.000 iscritti e tutte le persone che sono iscritte alla newsletter una volta a settimana hanno comodamente nelle mail 7, 8, 9, 10 contenuti ecologici legati al periodo, legati al mese, legati a un'alternanza in qualche modo di varie materie differenti, più gli appuntamenti che magari faccio sul territorio, ad esempio anche questo appuntamento è andato nella newsletter di lunedì, e anzi saluto le persone che l'hanno letto, che ci stanno seguendo, e rimane comunque un canale molto vicino alle persone, perché ci permette anche in qualche modo di non essere per forza collegati ai social, dato che molte persone non lo sono. Però per me in questo momento il canale da valorizzare, da prendere in considerazione è anche Telegram. Telegram permette non solo di creare delle chat con le persone, ma di creare dei veri e propri canali che non sono i gruppi, i gruppi sono una cosa differente. Il canale è invece un contenitore che permette di inviare dei contenuti in modo unidirezionale, quindi io lo invio agli altri, però di permettere poi su un altro gruppo collegato di avere i commenti e le risposte delle persone. Faccio l'esempio, il canale di Autoproduciamo è nato qualche mese fa, in un mese aveva già circa 2.000-2.500 iscritti, mando un contenuto al giorno e le persone mi rispondono e mi commentano. Quel contenuto non è a caso, lo penso, lo scrivo, lo direziono esattamente, leggo commenti, per cui è più o meno un'ora di tempo solo mettere quel contenuto al giorno su Telegram. Però poi la gioia e la felicità di persone che mi scrivono le mail dicendo ho letto quel contenuto su Telegram, ho letto ad esempio i dolcificanti naturali per diminuire lo zucchero perché così i miei bambini in qualche modo non entrano nella dipendenza degli zuccheri raffinati, a me rende felice. Quindi comunque mi invita a dire ok, scriviamo un altro articolo su come uscire dalla dipendenza degli zuccheri raffinati e migliorare la salute. Quindi insomma, riassumendo, riassumo un po' con dei punti che mi ero scalettata, quindi la divulgazione di cui mi occupo io in particolare è quella ecologica, ma non è quella ecologica teorica, è un'ecologica molto pratica legata a ciò che puoi fare sin da ora, ma che puoi fare con facilità, semplicità, risparmiando, migliorando la salute, creando rete, condivisione con il territorio e in qualche modo divertendosi senza giudizio perché nessuno può essere estremamente coerente a livello ecologico, tutti siamo in un percorso di cambiamento, tutti facciamo piccoli passi e nessuno può giudicare gli altri, semplicemente possiamo condividere con esuberanza quello che stiamo sperimentando. E questo insomma è almeno quello che mi piace fare a livello di divulgazione. Sono stata fortunata perché in qualche modo è la mia passione, mi ci sono appassionata anche divulgandolo, però tutta questa divulgazione ovviamente prevede tanto studio. Io sono laureata in sociologia, ho avuto esperienze lavorative, però a un certo momento mi sono detto ok, devo studiare di più e ho iniziato anche la scuola di naturopatia per poter anche studiare bene la parte chimica, alcune cose di parte medica, alcune parti legate all'anatomia del corpo, legate alle medicine tradizionali che hanno migliaia di anni come quella cinese, ayurvedica, quindi avevo bisogno di studiare. Quindi lo studio è qualcosa di fondamentale perché ricordiamoci, non sappiamo chi legge, quindi potrebbe leggere una persona che ha magari qualche patologia, sperimenta qualcosa che noi abbiamo scritto con superficialità e può avere un problema. Allora ogni cosa che scriviamo facciamolo con amore e con grande cura, ma anche umiltà. Comunque proviamo, sperimentiamo dicendo ho provato questo, vorrei condividerlo. Non sono un grande insegnante ma sto provando a, non so, evitare rifiuti, portandovi sempre dietro in borsa, le mie posate lavabili, faccio l'esempio, quindi cose molto semplici, la borraccia, eccetera. Riassunto appunto di quali social valorizzare per fare divulgazione ecologica, Instagram su delle pillole molto veloce o delle comunicazioni veloce oppure per sperimentare una creatività, una regia dei programmi, delle musiche, Facebook per fare un approfondimento con link, articoli, foto, immagini, con un po' più di contenuto e tag. La newsletter, almeno per me, è la condizione di divulgazione migliore perché permette di avere un rapporto con le persone che dura anni finché la persona non si disiscrive e poi la novità un po' del momento che è quella di creare un canale Telegram con una parola chiave. Il mio ad esempio è Autoproduciamo. Se per dire una persona si occupa di mobilità sostenibile di fare divulgazione della diminuzione dell'inquinamento attraverso la bicicletta chiamerà questo canale bicicletta ecologica, faccio l'esempio, così tutte le persone che cercano quella parola chiave finiscono in quel canale Telegram e quindi in realtà quello è molto molto facile. Quindi chi vuole iniziare a fare divulgazione il consiglio è partiamo dalle cose semplici e piano piano raffiniamoci con un blog, con una newsletter, con un canale Telegram, ma soprattutto parliamo con le persone e non solo scriviamole sui social ma mamma, papà, genitori, amici, fratelli, compagni. Divertiamoci a condividere con esuberanza ciò che per noi è qualcosa che ci coccola il cuore perché lo vediamo come una coccola a noi ma soprattutto a madre terra che ci continua ad accogliere nonostante la nostra azione quotidiana. Non so se è finito il mio tempo. Sì, abbiamo esaurito i cinque minuti anche se era molto davvero davvero interessante. Quindi la divulgazione è sostanzialmente una cosa seria, quella poi orientata all'ecologia tutto sommato ci dice che costa poco, fa bene alla salute, produce buoni effetti per l'ambiente e quindi ha tutti gli ingredienti per dover essere sempre più diffusa. Nel frattempo è arrivata la nostra sindaca, Belinda Gotardi, che saluto. Passiamo ad Antonio Beraldi, così mantengo la tradizione che almeno un cognome non lo azzecco. La biblioteca degli oggetti, è molto curiosa questa cosa perché uno quando pensa alla biblioteca pensa ai libri. In realtà con questa formula si assegna un valore anche agli oggetti, un valore culturale, un valore non solo economico, quindi gli dà anche una veste diversa. Sì, infatti grazie innanzitutto per l'invito e per questa occasione di parlare ancora una volta di questo esperimento. Mi piace sempre chiamarlo esperimento anche se ormai sono passati sei anni da quando siamo partiti nel 2016 e il progetto va proprio in questa direzione, cioè anche quello un po' raccontato da Lucia. Cioè l'idea è quella di, la sfida che noi abbiamo voluto lanciare è quella di entrare nelle case, nelle abitudini delle persone. Entrare nelle abitudini delle persone per noi ha significato e significa tutt'oggi fare cultura in maniera molto concreta, come funziona la biblioteca, così magari rendo più chiaro tutto quanto. Si fa un tesseramento annuale e si mette in condivisione un proprio oggetto, uno o più oggetti. Quindi è una sfida che chiama tutti alla partecipazione. L'oggetto che si mette in condivisione non viene regalato, cioè non diventa di Leila, ma rimane di proprietà della persona che l'ha messo in condivisione. Alla fine dell'anno la persona, il socio, farà un bilancio, se il progetto gli è piaciuto, se lo ha utilizzato, se è stato utile, se ci crede ancora, rinnoverà il servizio, altrimenti l'oggetto che aveva messo in condivisione ritorna ad essere suo e amici come prima. Quindi tutto quello che vedete, adesso sta scorrendo la pagina dove c'è anche il catalogo del sito dove si possono prenotare gli oggetti, tutto quello che voi vedete lì dentro sono oggetti messi a disposizione di ogni socio che ha deciso di accettare la scommessa di una piccola grande rivoluzione culturale. Noi quello che vogliamo fare è utilizzare la biblioteca degli oggetti come una grande scusa, un grande strumento, per passare da un mondo in cui più si possiede, più hai, più compri e più sei qualcuno ad un mondo invece basato sulla condivisione e sul creare fiducia. Quindi la mia in questo caso è l'attretto per distaccare la carta da parati dalle pareti, l'oggetto che io metto a disposizione degli altri diventa un oggetto che fa sperimentare il bene comune. Quando si parla di beni comuni di solito viene in mente l'acqua, la terra, la natura e invece scoprire che anche il mio mini peamer, la mia tenda per andare in campeggio può diventare un oggetto che trasmette, di cui prendersi cura e quindi diventa bene comune, era una piccola rivoluzione che noi volevamo avere un po' in maniera irriverente la voglia di giocare. Quindi le cose si possono prenotare, si possono utilizzare per massimo un mese come un libro della biblioteca, oppure ad esempio le cose per i bambini si possono utilizzare fino a sei mesi, il seggiolone, il tira latte, insomma tutte quelle cose che poi spesso compriamo perché c'è una vera necessità ma che poi, diciamocela tutta, a volte passa la passione, passa quel momento, passa l'utilizzo che ne devo fare e rimangono o in cantina o in un armadio, eccetera. Una delle cose che mi piace sempre dire e che rende bene l'idea è che io ho bisogno di fare un foro del muro, non ho bisogno di possedere un trapano. Quindi io ho bisogno di utilizzare gli oggetti, non ho bisogno di possederli. Devo dire che in questi anni questa semplicissima idea ha aperto riflessioni sempre nuove. Una volta era una riflessione sul fatto appunto dell'identità, no? Chi sei, dopo esserci stretti la mano, prima della pandemia, sei anni fa quando siamo partiti, Antonio Beraldi e poi ti dico che lavoro faccio. Poi le varie fasi, la crisi economica, la messa in discussione anche del mondo del lavoro, ha fatto germogliare nuove voglie di raccontarsi in maniera diversa. Perché poi raccontare che piacere Antonio Beraldi disoccupato non era proprio figo, no? E quindi abbiamo iniziato a scoprire attraverso una sfiga, che è diventata un po' una sfida, che possiamo argomentare anche le nostre abitudini quotidiane, i nostri modi di vivere certe cose e anche il nostro modo di argomentare che cosa facciamo quotidianamente per sostenere l'ambiente, diventare attivisti quotidianamente, come diceva anche un po' Lucia. E abbiamo visto che questo è uno strumento che effettivamente ha preso abbastanza. Sono nate diverse collaborazioni in diverse parti d'Italia. Quella più importante per noi ovviamente ce l'abbiamo a casa, perché da quest'anno è partita una bella collaborazione col Comune di Bologna attraverso le biblioteche. Quindi in questo periodo dell'anno poi il Comune sta cercando di supportarci e quindi chi ha la tessera delle biblioteche comunali può avere la tessera di Leila gratuitamente, ma rimane il vincolo del mettersi in gioco, del mettersi a disposizione degli altri attraverso i propri oggetti. Una delle cose che mi viene spesso chiesta è l'assicurazione. Questo è un aneddoto carino, perché quando siamo partiti nello stipulare i patti di collaborazione, ci dicevano ma gli oggetti sono assicurati? E c'era qualcosa che strideva. Io sto chiedendo attraverso questo meccanismo fiducia e poi mi vado a mettere in mano all'assicurazione. C'era qualcosa che non funzionava. Questo perché è per raccontare anche il fatto che è un progetto che non è fermo, è un progetto che cresce e si fa portatore anche di tante idee. Infatti il ragionamento che era stato fatto sei anni fa e che oggi è diventato ancora più fermo e importante è che l'associazionismo in parte serve proprio anche a quello. Adesso è un'assicurazione fra tutti. Tutti si mettono in gioco e tutti partecipiamo alla responsabilità di questo progetto. Quindi se prendo il videoproiettore che ha anche un certo costo, mi cade al quarto piano e sul regolamento c'è scritto che devo adoperarmi per ripiazzarlo a mie spese, ma non ho i soldi oppure in quel momento ho un problema, eccetera, è l'associazione che si fa carico nel momento in cui per una cosa effettivamente che non si riesce, non si riesce. Perché? Perché quello che va salvaguardato per noi è la fiducia di quel socio che ha messo il videoproiettore in condivisione. Il videoproiettore, insomma, sono 400 euro in qualche modo, diciamo con due attività. Quindi anche la voglia di dare un po' meno peso al valore che ha il denaro e un po' più alle relazioni che invece possono nascere e scaturiscono da questo tipo di meccanismo. Ultima cosa, in questi sei anni siamo stati abbastanza itineranti perché non avevamo una sede nostra. La nostra sede ci è stata affidata attraverso un bando alla fine del 2019 poi per la pandemia non l'abbiamo potuta inaugurare fino a settembre-ottobre quindi noi pensavamo ecco, avevamo avuto la fortuna di una sede ma non l'abbiamo potuta sfruttare. In realtà l'anno in cui ci sono stati maggiori tesseramenti è stato proprio l'anno in cui si è sviluppata la pandemia. Questo secondo noi anche perché tante persone a parte che l'abbiamo letto tanto in alcuni giornali c'erano alcune riflessioni anche molto interessanti hanno capito che senza il vicino di casa in realtà io non è che sono più forte il fatto dell'essere l'uomo che non chiede mai ricordate quella pubblicità o io che guadagno e quindi non conosco il dirimpettaio perché non ne ho bisogno c'ho il sale, c'ho tutto, c'ho il lecespugliatore abbiamo 15 trapani per condominio, eccetera e invece poi in pandemia abbiamo riscoperto il fatto che siamo un po' insomma è un'occasione persa non conoscere chi ci sta vicino e quindi ancora una volta le relazioni che diventano un valore importante e direi che è proprio questo il concetto che noi cerchiamo di portare avanti ed è per questo che mi va sempre di raccontare la sfaccettatura economica ecologica però quella culturale è quella a cui sicuramente noi siamo affezionati maggiormente bene, grazie molte mi sembra che da un po' da tutte e tre le esperienze emerga non solo un po' l'esperienza anche personale di 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 ogni relatore di ogni raccontatore ma di ogni divulgatore ma emerga anche il valore un po' di legato ai temi della fiducia della relazione umana e quindi anche il recupero attraverso la divulgazione attraverso la formazione attraverso l'informazione di non solo di elementi pratici cioè del riuso e delle cose o o o dell'informazione in sé o della notizia in sé ma anche del valore non solo sociale ma umano che tutto questo che a tutto questo si accompagna io farei un secondo giro sì do la parola a tutti nel senso sì un secondo un brevissimo secondo giro per tutti per dare sulla base anche dei racconti degli altri un po' le proprie le proprie reazioni le proprie sollecitudini ecco se mi permetti facevo una piccola considerazione poi magari approfittavo se posso per fare una domanda al nostro al nostro ospite e ci tengo a precisare una cosa a mio avviso divulgazione non è non è narrazione no quindi è un metodo ma è un metodo che dà ampia rilevanza ai contenuti soprattutto quando si parla di divulgazione in ambito scientifico come dire la curatezza di questi contenuti è fondamentale questo lo dico perché non me ne vorrà la nostra ospite non so se sia ancora collegata però sentire parlare di naturopatia diciamo stride un po' con con per esempio quelle che sono anche le la modalità di divulgare per esempio di Ruggero per come lo conosco e quindi anche nel rispetto dell'ospite credo che sia insomma importante dire che a livello di contenuti ecco non ogni messaggio è uguale all'altro ecco questo credo che sia importante proprio per questo se posso fare una domanda approfitto di Ruggero e proprio partendo da questo spunto di questa considerazione che ho fatto e nell'attività di divulgazione spesso ci si trova a dover decostruire degli stereotipi o magari a vincere dei luoghi comuni a spingere qualche ragionamento appunto controintuitivo per per spiegare delle cose che appunto parrebbero in un modo ma in realtà il senso comune porta a vedere in un modo ma in realtà ecco quindi ti chiedo se ci puoi fare magari un esempio da questo punto di vista di di questi muri contro cui a volte ci si scontra che bisogna insomma il vostro compito è quello di superare secondo me anche per rimanere in tema con quello che di cui parliamo questa sera uno dei concetti più controintuitivi che stiamo affrontando in questi anni è il problema che è un problema e sottolineiamolo 27 volte della plastica perché ad esempio questi sono bicchieri di plastica sono in polipropilene li possiamo riutilizzare tutte le volte che vogliamo questo non è un problema tra l'altro polipropilene invenzione italiana di natta che l'ha fatto isotattico quindi quando parliamo di di plastica di problema che offre stiamo in realtà cercando di identificare quella plastica di cui possiamo fare a meno il settore biomedicale non esisterebbe senza plastica il cavo per il microfono senza questo pvc plastificato di cui è fatto il cavo di cosa lo facciamo lo facciamo in gomma che prende fuoco alla prima scintilla no serve il pvc che è intrinsecamente ignifugo con magari anche degli additivi per renderlo ulteriormente ignifugo perché quando ci passa dentro della corrente l'ultima cosa che vogliamo è che questa cosa prenda 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 fuoco l'altra cosa e poi veramente chiudo è proprio quello legato io sono chimico di formazione e effettivamente c'è una grossa giusta tendenza a un ritorno a vedere quello che la natura può insegnarci però c'è un bel sondaggio che hanno fatto dei ricercatori di Zurigo su otto paesi europei da qui emerge una percentuale secondo me spaventosa il 39% degli europei dice di voler vivere in un mondo senza sostanze chimiche che insomma noi siamo fatti sostanze chimiche l'aria che respiriamo è fatta tutto è fatto di sostanze chimiche no mi è venuto il tarlo ho cercato di studiare questa cosa ed è veramente una cosa che pervade le nostre vite si chiama chemofobia questa paura di ciò che viene percepito come chimico come artificiale ha delle ragioni irrazionali in Italia abbiamo avuto seveso per citarne una caso arrivo dal lago d'Orta il lago d'Orta è stato completamente ucciso dall'industria galvanica che riversava l'acqua lunga popal caso talidomide diciamo che questa paura di ciò che è chimico ha delle ragioni fortissimamente razionali dobbiamo capire ed è lì che è difficile riuscire a fare la comunicazione quando fermarci quando la la paura del chimico ci sta precludendo ad esempio di utilizzare del polipropileno isotattico per dei bicchieri riutilizzabili che va benissimo pesa meno del vetro quindi anche di trasporto inquina meno lo riutilizziamo n mila volte lo conferiamo a riciclo e questo torna a essere utilizzato come poliolefina per altre cose è molto molto complesso chiaramente non hai no voletieri ci mancherebbe no è molto interessante questo aspetto io sono rimasto colpito ad esempio sì 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 no 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 assolutamente sono rimasto un po' colpito una volta parlando con un professore di chimica con il quale cercavo di avere delle informazioni sul tema della plastica e lui mi ha detto sì ma siete tutti orientati a pensare alla plastica delle bottiglie ma nessuno pensa alla plastica che c'è nei vestiti che è uno dei maggiori inquinanti dei nostri mari e quindi effettivamente è importantissima la divulgazione e quindi anche quella certamente più scientifica è più ovviamente orientata alla verità ma comunque in un mondo dove le notizie come posso dire senza senza sostanza senza una validazione non solo scientifica ma anche a volte storica a volte di contesto a volte insomma senza una validazione seria è purtroppo all'ordine del giorno e quindi a maggior ragione la divulgazione scientifica o quella che si avvicina sempre più alla divulgazione scientifica è un elemento importante per farci scegliere con consapevolezza e farci scegliere consapevolezza significa anche fare un'operazione di natura ecologica e quindi orientata alla tutela dell'ambiente lucia eccomi se vuoi aggiungere qualcosa e ancora qualche minuto per un piccolo secondo intervento no trovo questo inserimento del tema dei vestiti molto interessante e peraltro ad esempio se parliamo di riduzione dei rifiuti si dice uno dei materiali il pile i maglioni quelli che abbiamo tutti in casa che derivano dal riciclo della plastica in realtà hanno proprio questo problema nel senso che i lavati possono rilasciare delle microprastiche quindi ad esempio un uso comune che si può fare per evitare che vengano rilasciate è quella di chiuderle in sacchetti di tela molto fini in qualche modo che permettono un buon lavaggio ma che trattengono le fibre il tema del settore dell'abbianamento ovviamente è da tenere in considerazione anche per la spinta dal punto di vista dell'industria ad andare verso materie che sono trattate nella produzione con pochi pesticidi laddove si tratta di materie vegetali o che in qualche modo non rilascino sostanze tossiche faccio l'esempio attualmente forse Ruggero sicuramente ne avrà parlato stavo vedendo i giorni passati anche parte del suo lavoro c'è tutto il tema ad esempio di alcune sostanze che vengono utilizzate in collegamento con la plastica che sono liftalati che sono purtroppo interferenti endocrini che peraltro hanno questo odore fortissimo spesso riconoscibile ci fu una puntata di presa diretta molto interessante chiamata ciao maschio perché interferiscono anche rispetto alla sterilità dell'uomo e attualmente io spero che ad esempio laddove tutte le associazioni dei consumatori i divulgatori la stessa scienza in qualche modo si occupa di queste tematiche in qualche modo l'industria chimica faccia dei passi indietro ad esempio su sostanze che sono associate sia al mondo del bestiario perché sono le scritte gommose che sono sugli abiti che ad esempio nei materiali plastici comunque di arrivare a una come si dice una produzione che sia legata alla vita di tutti i giorni che possa permettere come si diceva la produzione di piccoli imballaggi laddove siano veramente necessari ma che possano tutelare l'ambiente perché lo stesso imballaggio se è fatto con sostanze tossiche non può essere giustificato dal fatto che però ci serve l'imballaggio ok troviamo un'altra soluzione esistono tante tecnologie innovative a basso impatto ambientale e quindi è importante che gli stati possano dare una mano finanziare queste tecnologie per diminuire l'impatto ambientale e stessa cosa sul tema dei rifiuti nel senso parliamo di differenziata ma parliamo delle azioni che possiamo fare per ridurre a monte rifiuti quindi sia agli imballaggi che servono ma solo veramente a quelli che servono tutto il resto che non è necessario cerchiamo di diminuirlo nella filiera a monte c'è un progetto di legge adesso interessante che è legato al tema dell'usato sul campo dei vestiti e invito veramente le persone a fare riferimento all'usato la biblioteca degli oggetti è un progetto bellissimo domani uno spettacolo di teatro ne parlerò perché è interessantissimo e di fare tutto l'usato il prestito il dono lo scambio tutto ciò che diminuisce la produzione riduce al monte e vive progetti circolari come questo molto bene grazie grazie molte una curiosità qual è l'effetto delle persone qual è la reazione delle persone di fronte alla possibilità di avere un oggetto che non è proprio ma che è disponibile e quindi a disposizione di tutti normalmente noi siamo molto attaccati agli oggetti lo dico in maniera ovviamente generica generale generica però penso che questo produca anche un approccio diverso delle persone nei confronti degli oggetti sarei curioso di capire qual è l'effetto che è stato generato anche in un sistema di questo genere come ha reagito alle persone come reagiscono e quale poi è l'effetto duraturo se c'è duraturo nel tempo quindi si abituano ad avere un rapporto diverso con gli oggetti e quindi anche con la possibilità di riusare di riutilizzare non solo quelle cose che voi mettete a disposizione ma probabilmente anche altro o no sì diciamo che quello che abbiamo visto è che le persone quando ascoltano e capiscono un po' come funziona il progetto di Leila hanno una reazione come di stupore incredibile quasi sproporzionata rispetto all'idea del ci prestiamo la roba però questo dice qualcosa e poi lo vediamo anche nel modo o meglio nelle cose che mettono in condivisione quando siamo partiti sei anni fa noi eravamo il primo progetto in Italia che faceva una cosa del genere e non si parlava tanto di condivisione così intima degli oggetti o meglio intima sì se sei il mio vicino di casa se sei il mio fratello se sei un parente ok ma invece trasformarlo in un concetto più simile alla biblioteca appunto quindi che è una roba di tutti grande euforia però una grande timidezza cioè tutti ci siamo scoperti molto più attaccati agli oggetti in realtà di quello che già dichiariamo perché anche mettere in condivisione una tenda che utilizzo forse una settimana all'anno non è un salto così semplice quando siamo partiti io pensavo che un'idea del genere avesse una fiammata che si trasformasse poi facilmente in un falò e invece non è stato così è stato un processo graduale e poi col senno di poi mi sono detto è stato molto meglio così perché perché all'inizio le persone erano appunto euforiche però si presentavano col cacciavite poi dopo un po' di tempo quando si è visto che effettivamente il progetto non era un fuoco di paglia che diventava sempre più grande perché poi noi in un anno e mezzo abbiamo aperto tre corner in giro per la città proprio perché non avevamo una sede fissa allora c'è stata una vineria che ha detto ci piace il progetto vi diamo una parete e quindi quelli sono diventati per noi vetrine da una parte e anche contenitori perché altrimenti non sapevamo dove mettere gli oggetti e poi abbiamo visto che piano piano le persone sono arrivate a condividere invece oggetti di grande qualità cioè oggi infatti la sfida è proprio quella cioè le persone sono passate dal percepire Leila come una bazza però metticela tu la roba di valore alla qualità degli oggetti che io voglio trovare a disposizione dipende anche da me e quindi da quanto io mi metto in gioco e questo è stato davvero un passo un movimento importante quindi anche la storia della risposta insomma della domanda è una storia un po' complessa è partita in sordina oggi insomma c'è davvero chi oggi abbiamo tre videoproiettori abbiamo un'idropulitrice che insomma abbiamo visto più di 600 euro di valore insomma le persone hanno iniziato a capire che è una strada il futuro è condivisione deve essere condivisione altrimenti cioè non è che abbiamo poi tante altre alternative rispetto a certe direzioni poi questa è un aneddoto carino in un comune che mi ha chiesto ma perché non vieni proviamo a mettere su dal basso proviamo a vedere se ci sono delle associazioni dei volontari che poi tengono in piedi la biblioteca e ho detto ma certo allora siamo andati a parlare in giunta e c'era questo assessore molto molto scettico assessore alle attività produttive e quindi comune piccolo e quindi ha detto se mettiamo in piedi una cosa del genere il ferramenta poi voglio vedere e invece c'è stata l'assessore alla cultura alle attività giovanili che ha detto una cosa molto interessante e cioè le biblioteche non hanno mai minacciato la Feltrinelli cioè non ci risulta che le case editrici siano mai state messe in discussione dalle biblioteche e un po' quello è lo spirito con cui noi come dicevo prima abbiamo voglia e serie intenzioni di davvero entrare dentro il circuito delle biblioteche classiche perché anche una rivisitazione di che cosa sono questi luoghi così importanti per la cittadinanza e per le istituzioni insomma in questo ragionamento credo che possiamo essere un tassellino bello insomma se non altro nuovo innovativo assolutamente grazie bene siamo giunti un po' alla conclusione della serata mi sembra che siano emersi davvero tanti spunti dalla divulgazione appunto come elemento di traino dal punto di vista scientifico dalla diffusione dalla condivisione tutti elementi che sono come posso dire caratteristiche di una qualità della vita diversa rispetto a quella che forse in parte viviamo viviamo oggi io davvero ringrazio tutti i partecipanti da Ruggero Lorlini e Lucia Cuffaro a Antonio Beraldi davvero per l'apporto importante che avete dato in termini di conoscenza questo è il termine che mi piacerebbe poter usare come termine finale per questa serata ovviamente ringraziamo l'assessore Zucchini per l'ideatore di questo festival che c'è scritto piccolo ma secondo me invece in realtà è un po' una provocazione perché la divulgazione è grande non è mai piccola quindi un grazie di cuore davvero a tutti ringrazio a tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione e quindi un caro saluto a tutti e un grazie ancora di cuore davvero a tutti grazie 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 grazie